Cambia la compagine dell'Associazione Culturale Vale Peligni in Tasca, che scalda i motori per la prossima stagione primaverile ed estiva e per dare nuovo impulso alle sue attività. Ad assumere la carica di Presidente Carla Di Benedetto, eletta nei giorni scorsi da tutti gli associati, anche dei fuorisede che hanno preso parte alle operazioni di voto grazie alla modalità elettronica, il direttivo dell'Associazione risulta così composto. Carla Di Benedetto, Presidente, Francesco Di Giovanni, Vicepresidente, Ludovica Sabatucci, Secretaria, Elio Sciullo, Tesoriere. Sono stati inoltre rinnovati i responsabili delle attività, responsabile tecnico Andrea Ramunno, responsabile commerciale Franco Lotito, responsabile dei contenuti Annarita Circe Estiense, responsabile coesione tra comuni e associazioni Paola Ruffo. A breve l'Associazione presenterà le nuove attività, coniugandole con quelle svolte tradizionalmente nella promozione degli eventi del territorio. Stiamo già lavorando per definire il percorso da intraprendere nei prossimi mesi, afferma la neopresidente Di Benedetto, piena di entusiasmo per il nuovo incarico. L'Associazione è nata nella primavera del 2015 ed ha presentato finora tre guide agli eventi del centro Abruzzo, due estive e un'invernale. Apprezzata da operatori economici della zona e imprenditori, nell'ultima uscita, che risale al mese di luglio 2016, l'Associazione riuscì a raggruppare 170 eventi in 22 pagine di formato cartaceo, un valido strumento per conoscere le iniziative programmate sul territorio. Resta sempre operativo e consultabile in qualsiasi momento il sito internet dell'Associazione www.valepellinientasca.it dove vengono riportate tutte le manifestazioni programmate sul centro Abruzzo in tempo reale.